buongiorno a tutti i signori e signori sono ronny raponi e polverici qui in diretta esclusiva mondiale interplanerare unica al mondo molto probabilmente di benessere con la casa grande ogiello grande ogiello che ci verrà protagonisti quest'oggi con un righi sanagiotto ovvero colui codello o desto colmo come si dice in quel del martesio e roma rotta in provincia di piazza rubino nelle marche che viene di valamia l'ancona particolarmente contrariato sentiamo perché ciao bene sono di chi sono giusto quello di valamia l'ancona e sappia come me l'ha detto allora mi hanno detto cioè si è permesso di dire la testata porca mastiera l'ho preso la testata a tutti si è permesso di dire che c'è una mia cugina porca mastiera che fa i buccolotti o belli i buccolotti con la bocca porca mastiera l'ho preso il fuori di testa come andate a tutti parano a parlare alla vostra bocca per parlare con di chi sanno giusto bene va bene si fa fa la cuoca fa chissà come pensare puc turnaround ma perché simpez y far indese buco Grazie a tutti